konichiwa cari giappo amici e benvenuti tutti quanti voi qui nel mio canale sono sempre il vostro giappo gamer e benvenuti quest'oggi qui su ghost o tsushima per contare questa avventura videoludica e che vide il samurai gene ergersi andare contro l'invasione mongola dell'anno 1000 1100 ovviamente che vide il protagonista la sua isola di tsushima a calo fra il giappone e la corea del sud chissà cosa accadrà quest'oggi al nostro samurai gene questo nuovo episodio numero 93 di questa serie come sempre mi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanella e allora andiamo in questo nuovo appuntamento di ghost o tsushima ok giappamici allora eccoci qua in questo nuovo episodio ghost o tsushima quest'oggi allora dobbiamo andare a parlare con yuna ah vediamo un po' situation e ah ok proprio qua parla con yuna ah prova cassello shimura dobbiamo riconquistare cassello shimura sferra l'attacco a cassello shimura ok allora sferiamo questo attacco visto che ci siamo ah dov'è che sta ma chi è che piange che è vabbè sta fuori ok vediamo no oh qua ci sono proprio gli spuntoni da dove casse si passa qua a parte qua dentro si può entrare ah ci sono ancora i prosciutti pari ah oh ci sono provviste eh bomba fumogini siamo pieni qualche oggettino ok allora qua ci abbiamo il carpentiere lo spadaio anzi spadaio katana sakai eh oro 5 e vabbè provviste pure grazie amigo mio l'armaiola ok qua è maggiore qua manco i provviste armature di gosaku maggiore uniforme ronin maggiore armature kran samurai 4 l'abbiamo fatto vabbè non stiamo messi male eh si ho capito ho capito signora eh devo andare a parlare ah ecco sta la yuna oh ok qua dentro qualche altra provvista magari no eh beh eccolo qua yuna vai parliamo no eh ma mamma mia che dè eh vai lo scopriremo solamente vivendo lo arriviamo un po' dall'oscurità mamma mia con la maschera e kran sakai allora armatura dello spettro una nuova partita per potenziare l'assetto tattico dello spettro nonché ultima creazione di un buon amico vabbè maschera da spettro si ispira la maschera sakai creata per lo spettro da un buon amico fascia dello spettro tutto spettrale la fascia del legionario spettro itsushima allora infiltri nel primo torino del castello shimura evita che venga dato l'allarme ho capito ma eh allora direi che il ponte non si può utilizzare ah qua si può rientrare si può rientrare no non si può rientrare beh allora direi di passare qua sotto con calma in circospezione tocca buttarsi a fiume qua ah no ok mamma mia afferrato e cala e che caspita ovviamente vi ricordo che io sto portando questo gozo tsushima in blind run cioè non sapendo proprio che caspita fare ma insomma poi e che ca... eh vabbè ho capito appunto come vedete appunto non... è un gameplay che va comunque come va allora vediamo un po' perchè poi uno la si bastardi lanciano queste frecce infuocate di mortacci loro vabbè vabbè nooo e dai che caspita no non ci sia a buttare giù dalla cascata vabbè e sono ovviamente comunque gameplay che non taglio allora io però eh mi aggrappo la ma... ah poi non so se c'è un altro lì la ma sta lontano mi sa ok si riaggancia qua ma qua dindolo dindolo ma poi ok ok però dondoliamo ma... che tocca... eh vabbè ho capito è un po' un complica... più complicato del solito ah scusate ma se noi ci arrampichiamo qua eh uno uno due oh mortacci ostri ok laggiù direi di no no qui si ci buttano le frecce no e si aggrappa solamente qua poi che caspita ma perché se noi nuotiamo per di là no eh tante volte e niente allora mi sa che si passa proprio per di qua no che poi da lì si può andare sulla... su quell'isoletta lì no proviamo un po' da qua ci si butta no come non detto ok e fin qua ci siamo poi e che caspita però come fa a salire eh non mi ricordo e che caspita no stavolta mi sa che è proprio cribato del tutto ma qua non si può aggrappà? e che caspita non ci si può aggrappare e vabbè si compare tutto lo schermo ok ok ah ecco ok ok di qua c'era il vessillo adesso ci ho fatto caso un po' oppela allora qua ci sta proprio la cascata c'è eh no no che cazzarola allora vediamo un po' qua su come stiamo messi allora e dai e vabbè caduto però nella cascata cazzarola però comunque un minimo passo avanti l'abbiamo fatto e da qui e vabbè tocca ricominciare e oppela ok fin qua ok mamma mia alla ok ok bene poi di qua ok mamma mia alla sansis creed ok bene se andare giù andiamo giù ok per di qua per di qua quassù vai 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 ottimo così bene stiamo presente sotto ottimo poi vediamo un po' mamma mia ok e ok mamma mia il volo ottimo ok ci ho messo un po' però eh prima che ci guaghi ci bicchino magari non sarebbe male zitto 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 n'è successo niente n'è successo niente eh no dove stai? ma qua se apro succede in casotto allora io un po' provvisi 17 bene c'è qualcun altro qua? provviste 13 bene ma non si può andare su? c'è una scala la gara vecchia scala no? ah le no parebbe di no ah provviste buone 13 ok ah eccola qua eccola qua non ci ho fatto caso vai sali gin sali qui su va si 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 tu nonna vostra nonna no che cazzo ma che allarme che allarme date? è successo niente? non è successo niente ah e che caspita basta rimedite mi ha fatto scattare l'allarme e vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' senza fare rumore oppela ok provviste dammele va che sono sempre buone poi ah le assassinato ci hai provviste tu? no fuori due poi no no non è successo niente si poi ah le ah le perché poi ah buoni tutti sono provviste prese ok potenziamento dello spettro disponibile buoni buoni devo andare all'armaiola poi ok ok esamina le difese mongole ok devo andare lì a esaminare c'è qualcosa che mi interessa qua? tu provviste bene ok 9 qualcos'altro? no eh controlliamo 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 qui 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 ci 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 come mh poi la va vediamo anche lì Esatto, eh, chissà perché, eh, al massacro, eh, chissà per quel motivo Ah, Ryuzo, mmm Lei rag... mmm Passiamo per il giardino Allora, infiltri attraverso il giardino Ah, lì, ok, allora devo andare giù di sotto Allora, veniamo un po' Ok Usa la corda tese sui tetti, attraversare il campo di battaglia e stare al di sopra Eh, ho capito, pettetti, però... È una parola Ah, lì su Eh, vabbè, vabbè Vabbè, ho capito, vabbè, vediamo un po' Vediamo un po' Che quest'oggi qua, eh Tostarello, st'episodio Oh, i punti tecniche Ok, da qua Dov'è che stava? Allora Ma noi abbiamo già visto, no? Sì, 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 ok Fì, attraverso il giardino, ok Oppela Io l'ho già assassinato Vabbè, uno ho fatto fuori, va Allora Allora, vediamo un po' Però, pettetti Eh, vabbè, pettetti qua, però... C'hanno gli spuntoni questi Sì Oppela Ok E quello è bello grosso che sta là Ti sta ubriacando, eh Pettetti, però Pettetti La fate facile voi, pettetti Eh Sì, qua ci sta il coso La corda E ok Però di qua Adesso in maniera di assassino quello Scatta comunque l'allarme No, sto qua Bravo, metti di seduto Bravo Ok Ok, mamma mia Qua ragazzi Quanto fa scuola Assassin's Creed Quanto fa Scuola Qua cosa là nera Che caspita è quella cosa là sopra Qua bisogna tentare Il tutto e per tutto No, è che caspita bro Porca la miseria C'ha voglia Vediamo un po' Vediamo un po' Se tocca rifare un po' tutto Oppure no Posere dire di sì Vabbè Ok Dall'oscurità No, non è successo niente Non è manco Non è manco Guto giù Boni Boni Ah, ho capito Poi di là Dai, siete boni Non mi vado ad assassinare Qualcun Nessun altro No, dai Non cercate Dai, su Veramente Mi piacerebbe un attimo Si può tipo avvelenare Allora, andiamo con Cerbottana Dardo avvelenato Vediamo un po' Vediamo un po' Eh, pure quell'altro è bello grosso Eh, cazzarola No, che allarme date No, dai Eh, è morto così Bene, non avete dato nessun allarme, no? Non mi pare, ok L'avevano accennato Ok Quello sta lì Si, controlla Controlla Cioè, sta niente Se ne va Ok Infiltrato Bene, ok Prima parte andata Allora Eh, avvelena il latte Fermentato dei mongoli Ottanta metri Mamma mia, ragazzi Quanto ha stato iscritto Ha fatto scuola Quasi coperto Offela C'è qualcosina? No, non c'è niente Spilorcio Eh, ma qua Anche se Mi piacerebbe Ammazzarvi a tutti Però Ok 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 Non è successo niente Eh, che caspita Se ne sono accorti Ok Allora Seduti su chi va là Eh Bravi, bravi Bravi mongoli Così vi voglio Ok 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 Sì Esaminiamo E ora Aspettiamo Vai Bevi, bevi Amico mio Bevi, bevi Alla salute Eccola Eccola Ok Entra nel torrione Per affrontare Il canna 60 metri Allora Qua c'è qualcuno Qualcuno ancora vivo Mezzo vivo Tipo te Colpo di grazia Adesso vuole crebare Del tutto Ma si può andare così Liberamente Tanto le provviste Le prendo Va Sette Sempre buone Ma Non ci sta nient'altro Qua che posso prendere Al di là dei prosciutti di parma Vediamo un po' Sì Qua dentro che ci sta Ci sarà qualcosa De bono A parte i prosciutti di parma Immancabili Acciaio Acciaio Oh Bene Dicevo io Ecco La cosina c'era Ok Devo andare nel torrione Vabbè Qua ci sta niente Si Cuoio per due Buono Provviste Buone 13 Altre provviste Bene Di qua niente Di qua niente Ok Direi di no Procediamo Acqua dentro Acqua dentro Di qua niente Di qua niente Eccola 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 Mice Es audios Di qua niente Dicevo Nenchi Surti Surti Tutti Surti Di qua niente Francesco Casa Lucre Fobi าน Ci Mi O No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah... Eh, giustamente. E' rimasto fedele al suo codice. E' calma. Ah... Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Trofeo guadagnato. Yatta, 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 lo spettro. Bene così, bene così, bene così. E ok, giappone amici. Dove potete farmi... Dove potete farmi tutte le domande che volete su questo videogiocone incredibile, oppure sui videogiochi giapponesi in generale. Io vi risponderò non appena tempo possibile. E ovviamente, insomma, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e dal vostro giappogamer. Per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi! Saprire! Sì... 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 Grazie.